Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato un 36enne di Rozzano a 18 anni di carcere per aver ucciso il suocero il quale aveva abusato della figlia. Fatti accaduti nel 2019 per cui l'autore si era autodenunciato ammettendo davanti ai carabinieri di Rozzano di essere uno dei killer di Antonio Crisanti, 63enne, ucciso con quattro colpi di pistola. Una storia in cui il margine fra colpe e senso di vendetta e prescrizioni della giustizia si scontrano. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano è stata una vera e propria esecuzione, un atto di giustizia sommaria che con diverso movente, anche solo con un regolamento di conti fra pregiudicati, avrebbe portato all'ergastolo. Ciò nonostante, hanno scritto i magistrati della Corte d'Assise presieduta da Ivana Caputo con giudice Alatere e Franca Anelli, la sprezza della pena inflitta per gli imputati può essere mitigata a entrambi nella parte che riguarda l'aumento di pena per la continuazione tra i reati, ovvero l'omicidio volontario aggravato e il porto abusivo d'arma. L'omicida arrivò sul luogo del delitto, il piazzale del supermercato gigante in Viale Lazio, a bordo di uno scooter guidato da un suo complice. Appena vide il suo ocero, che era in compagnia di alcuni familiari, gli si avvicinò e gli sparò una scarica di proiettili che andarono tutti a segno. Poi risalì sulla moto e tentò di far perdere le sue tracce. Per il complice, a cui è stata ridotta la pena da 18 a 12 anni di carcere, i giudici hanno considerato le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, anche se hanno riconosciuto la sua piena consapevolezza dei propositi dell'amico, e cioè uccidere il suo ocero per vendicare la figlia.